Amici telespettatori, per la rubrica flash sindacale, il sindacato europeo indipendente operatori scuola mette poi risalto in senso negativo quello che sta succedendo per i dirigenti scolastici che purtroppo sono presi adesso da un problema di cambiare sede perché chi ha fatto già due contratti triennali è costretto a fare la domanda di mobilità per altre scuole. Ovviamente questo è tutto a discapito delle scuole, dei professori e di tutti quanti che si stanno impegnando da anni per la sperimentazione, per fare in modo che gli istituti possano aumentare la loro capacità di ricevere allievi e dare quella giusta professionalità. Ovviamente questa legge è stata inapplicata da tanti anni e adesso dopo 11 anni il Ministero e chi per esso ha deciso di farla applicare e già in alcuni miur stanno dando disposizione per far slittare i vari cambiamenti dei dirigenti scolastici. Oltre a questa bruttissima notizia ci sta anche la notizia che praticamente è uscito il bando per l'ordinanza per fare la mobilità, quindi chi è interessato può fare il cambiamento di sede ovviamente avendo i requisiti e speriamo che tutti i colleghi vengono accontentati in modo che l'anno prossimo, l'anno scolastico, all'inizio dell'anno le classi siano coperte da personale specializzato ma principalmente competente. All'inizio